Torpore ipnotico, Chekhov Nella sala del tribunale distrittuale si stava svolgendo una seduta. Di pubblico ce n'è appalate. Sul banco degli imputati, dandosi aria di ascoltatore nobile e indulgente, si è da un bon vivant dal viso smunto e ammaccato, accusato di malversazione e falso. Il segretario, magro e dal petto stretto, dà lettura dell'atto di accusa con sommessa voce di tenore. La sua monotona lettura, che non conosce né punti né virgole, produce l'impressione di api che ronzano o di un ruscello che mormora. Una simile lettura si sogna, si ricorda e si dorme che è una meraviglia. I giudici, i giurati e il pubblico si sono ammosciati per la noia e ricordano delle mosche cavalline. Silenzio. Solo di tanto in tanto giunge dal corridoio un suono di passi cadenzati, oppure un gelato sbadiglia e tossisce con cautela nella mano. Il difensore del bon vivant ha puntellato la testa riccioluta con il pugno e guarda ottuso nello spazio. Sotto l'influsso del ronzare del segretario, i suoi pensieri hanno perso di sistematicità e si sono dispersi in ogni direzione. Ma che naso lungo che ha quell'ufficiale giudiziario? Pensa, battendo ciglia ormai pesantissime. La natura doveva proprio andare a guastare un viso intelligente. Ma come sarebbe se la gente avesse il naso più lungo, un naso di due o tre metri, così che io, per esempio, potessi infilzare col naso l'occhio di quel giurato laggiù, coi capelli rossi? Già in sala siamo abbastanza fitti, ma con dei nasi così lunghi ci sarebbe ancora più fitto. Per resto la sala è spaziosa, bella. Probabilmente ci potrebbero ballare la quadriglia venti coppie. Metti l'orchestra lì, dove è il tavolo della giuria. Dai la pece greca al pavimento e scaldi. La sala butta il freddo, sa di burocrazia, Ma attacchi un lampadario al soffitto, metti le tendine alle finestre, disponi intorno dei divani di velluto e non hai bisogno d'altro. Quante ce ne potresti mettere in questa sala di stanzine, piccole come il mio studio? Il difensore comincia a fare i conti, ma presto scuote la testa come un cavallo punto da una mosca e continua Chissà cosa faranno adesso a casa mia. Probabilmente si annoieranno a morte. A quest'ora sono tutti a casa. Mia moglie, mia suocera, i bambini. Colche e Zinca probabilmente adesso fanno i discoli nel mio studio. Quel mascalzone di Colche è in piedi su una poltrona, sta appoggiato col petto al bordo del tavolo e con i colori dipinge qualcosa sulle mie carte. Ha già disegnato un cavallo con un muscio a guzzo e con un puntino al posto dell'orecchio. Un uomo con un brazzo teso in avanti. Una casa storta dal cui camino esce il fumo a zigzag. Mentre Zina sta in piedi, di fianco al tavolo, tende il collo e cerca di vedere cosa ha disegnato il fratellino. Disegna papà? Gli chiede. Colche si mette a disegnare me. Uno metto ce l'ha già, deve soltanto aggiungergli una barba nera e papà è pronto. Colche bagna di saliva la matita, fa un sospiro e scarabocchia una barba, ma con una tale foga che la matita non regge. E... Crac, il disegno non è riuscito. Bisogna pensare a un'altra occupazione. Colche comincia a cercare dei disegni nel codice delle leggi, mentre Zina passa in rassegna gli oggetti sul tavolo. Capita sotto i loro occhi un campanello e loro suonano. Vedono il caramaio. Bisogna intingervi un dito. Se il cassetto del tavolo non è chiuso, allora bisogna aver troppa forza d'animo per resistere e non frugarci dentro. Alla fine viene loro in mente che sotto la mia scrivania ti si può nascondere benissimo. Si infilano entrambi là sotto, gridano e si agitano finché non cade a terra una lampada o un vasetto. Ah! Educare questi monelli è impossibile e picchiarli dispiace. In salotto probabilmente adesso la balia passeggia con la terza creatura dandosi aria di importanza. In generale queste nutrici sono disgustose, ottuse, stupide, animalesche e però tronfie, capricciose, imbottite di amor proprio. Come se avere il latte fosse sta gran cosa complicata. E la creatura strilla, strilla, strilla senza smettere. Sulle azioni della stessa banca ronza il segretario ai numeri 17, 103, 164, 207, 800. 11, 101, 912, come risulta nel libretto lettera K, gli interessi non sono stati pagati, inoltre la somma di 1435 rubli e 41 copè che è stata aggiunta alla rimanenza del 1883. Forse però a casa stanno pranzando, fluttuano i pensieri del difensore. A tavola sono seduti mia suocera, mia moglie Nadia, il fratello di mia moglie Vasia e i bambini. Come al solito, mia suocera ha dipinta sul viso un'aria di ottusa preoccupazione e la consapevolezza delle proprie ragioni, sebbene nessuno le abbia chiesto niente su chi ha ragione. È orgogliosa e non ha nessun bisogno che la nutrano i suoi figli e andrebbe a chiedere la carità piuttosto che essere in debito con la figlia e il genero. E tuttavia mangia più non posso. Nadia, magra, ormai sfiorita, ma ancora con il viso con una splendida pelle bianca e trasparente, è seduta a tavola e fa finta di essere malata. Anche il suo volto, come quello di mia suocera, esprime preoccupazione. E ci credo, sulle sue spalle ci sono i bambini, la cucina, la biancheria del marito, gli ospiti, le tarme nelle pellizze, la polvere sul piano, un mondo intero. Quante mansioni e quanto poco lavoro! Nadia decisamente non fa nulla. Se a furia di non fare niente annaffia i fiori o trova da dire con la cuoca, poi per due giorni si lamenta per la stanchezza. Suo fratello vasia, un ginnasiale scrofoloso, mastica in silenzio e teme che qualcuno gli presti attenzione. Oggi ha preso un brutto voto, ciò che non è difficile indovinare dal suo viso. È piccolo, tranquillo, servizievole, riconoscente, ma consumano a tale quantità di stivali, libri e pantaloni che è una vera calamità. I bimbi naturalmente fanno i capricci, vogliono l'aceto e il pepe, si lamentano l'uno dell'altro e fanno cadere continuamente il cucchiaio. È male la testa anche solo a ricordarle queste cose. Mia moglie e mia suocera, come autentiche istitutrici, più che mangiare, vigilano sulle buone maniere. Dio scampi, vasi a zina, dall'appoggiare i gomiti sulla tavola, dall'afferrare il coltello con tutto il pugno o dall'intingere i polpastrelli nella saliera. Li potrebbero sbranare. È meglio morire di fame piuttosto che permettere alla cuoca che porge le pietanze di servirle da destra e non da sinistra. Tutti i cibi, compreso il prosciutto con piselli, hanno anche di cipria e di caramelle Montpensier. Tutto è insipido, finto, miserabile, come se nelle pentole cuocesse non la carne, ma la pelle sottile e trasparente di Nadia e delle buone zuppe di cavoli e della cascia che manzavo quando ero scapolo non c'è neppure l'ombra. Mia suocera e mia moglie parlano tutto il tempo in francese, ma quando il discorso si trasferisce su di me, allora mia suocera comincia a parlare in russo perché un mascalzone come me non è degno della lingua francese. Il marito è genero, non è nient'altro che prosa di cui si può parlare come si vuole, senza vergognarsi. Povero Michael, probabilmente ha patito la fame, dice mia moglie. Stamattina ha bevuto un bicchiere di tè senza pane ed è corso in tribunale. Non ti preoccupare, cara, così mia suocera si allaccia a qualsiasi argomento. Uno così non patisce la fame. Probabilmente è già corso cinque volte al buffet. Nel tribunale si sono dotati di un buffet e fanno un intervallo ogni due per tre i giudici. Mamà e con quali soldi andrebbe al buffet? Li trova. Quando è con sua moglie naturalmente non ha mai soldi, ma quando è senza moglie ma fammi il piacere. Mangia a sazietà lui e altri cinque avvocati affamati. Non gli credere, per favore. E non avesse soldi non tornerebbe dal tribunale ogni giorno in stato di ubriachezza. non torna in stato di ubriachezza, torna stanco morto e così via. Dopo pranzo le suocere e mia moglie cominciano a parlare di come ridurre le spese. Prendono in mano la matita e fanno i conti. L'ortografia non rientra nei programmi di buone maniere e perciò le lettere si comportano da screanzate. Nadia scrive chirosene per quindici copecche, pane nero per trenta copecche, lavandara un rublo. Mia suocera aggiunge fiacchieraio quaranta copecche, caramelle per la tosse ai bambini quindici copecche. Alla fine dei conti entrambe scoprono che le spese sono spaventosamente alte. sfido io sbuffa mia suocera se lui spendesse quello che guadagna ma lui campa sulla tua dote. Mica scherzo non hai fatto in tempo a sposarti che già non c'erano più tremila? Dove sono? No Nadine avevo ragione quando ti sconsigliavo di sposare un avvocato. Dopodiché viene invitata la cuoca e cominciano le offese. L'economia è una gran cosa ma nell'economia di mia moglie e mia suocera non c'è posto per il garbo. Per cinque copecchi fanno degli urli tali e dicono tante di quelle parole offensive che anche la cuoca se ne ha male. Dopo aver ridotto le spese cominciano a pulire le stanze spostare le seggiole a lavare i pavimenti in modo brutale e tutto perché non hanno niente da fare. L'assessore di collegio Cerepcov ronza il segretario ha dimostrato che sebbene avesse firmato l'acquitanza numero 811 tuttavia non ricevette mai il 746 l'842 copp come risulta dall'allegata relazione del servizio numero 1277. Quando ci pensi evaluti bene prosegue il difensore allora quanto è vero Dio? Diresti ciao a tutto domanderesti al diavolo io sono una persona onesta ma non mi faccio delle colpe se qualcosa del genere le zingare o cosa quando ti rincretinisci e ti sfinisci tutto il giorno involontariamente vuoi poi riposare la tua anima di notte fai un salto da Natascia oppure quando hai soldi dalle zingarelle e dimentichi tutto ti stravacchi sul sofà di una camera col separè e senti che la tua anima è tutta sotto sopra sentir cantare glascia la zingara glascia che denti che occhi che schiena il segretario intanto ronza 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 negli occhi del difensore tutto comincia a fondersi i giudici e i giurati rientrano in se stessi l'immagine del pubblico ci fa suocata il soffitto sembra cadere infine i pensieri si spezzano Nadia la suocera il naso dell'ufficiale giudiziario il bon vivant glascia tutto questo saltella gira se ne va lontano 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 bene si assopisce tranquillo il difensore si sta bene si è steso sul divano fa caldo si sta comodi glascia che canta signor difensore sente una voce decisa si sta bene fa caldo non lavano i pavimenti non c'è la suocera glascia è buona bella semplice signor difensore risuona la stessa voce decisa il difensore trasalisce e apre gli occhi gli occhi neri di glascia la zingara lo scrutano fissi le sue labbra succose gli sorridono il suo viso bello e abbronzato splende come la luna scioccato ancora non completamente sveglio il difensore si alza lentamente e a bocca aperta spalanca gli occhi alla visione signor difensore non desiderate fare qualche domanda alla testimone chiede il presidente ah sì questa è la testimone no non non lo desidero il difensore scuote la testa e dice a voce più alta l'altro canto mi scuso certo che lo desidero testimone voi prestate servizio nel colo zigano di kuzmichev dite con quale frequenza l'accusato faceva baldoria nel vostro ristorante ah è così e non ricordate se pagava lui il suo conto o non capitava che anche altri pagassero per lui vi ringrazio è sufficiente e il torporo ipnotico se ne va completamente fine grazie a tutti